Il succesi iglesiente in marcia per la salute giovedì ad Iglesias. L'iniziativa arriva dopo la stipula del patto per la salute tra organizzazioni sindacali e 22 sindaci del territorio. Una legge regionale per promuovere l'albergo nautico diffuso. Si tratta del primo provvedimento del genere in Italia. Prosegue il piano di efficientamento energetico di poste italiane nel succesi iglesiente. Sono nove gli uffici postali interessati in altrettanti comuni da oggi a fine settimana. Ripartono gli eventi di Calasetta accessibile e sostenibile. Mercoledì sera, giorno della festa patronale di San Maurizio, si svolgerà l'iniziativa Puliamo il mondo, curata da Lega Ambiente Cagliari. Buon martedì 21 settembre 2021 a tutti i telespettatori di Canale 40 ben ritrovati per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Le segreterie regionali SPI-CGL, FNP-CISL e WIP pensionati e le segreterie provinciali SPI-CGL della Sardegna sud-occidentale, FNP-CISL e WIP pensionati su Cisiglesiente, hanno organizzato la marcia per la salute che si terrà giovedì 23 settembre ad Iglesias. Le organizzazioni sindacali, dopo aver sottoscritto il patto per la salute con 22 sindaci del territorio, hanno rilevato una situazione del sistema sanitario territoriale che permane fortemente inadeguato. Emerge, si legge in una nota, la grave disattenzione della Giunta regionale verso le strutture ospedaliere di Carbonia e Iglesias, unitamente al mancato riordino della sanità territoriale dei 23 comuni, quale sistema integrato di cure di prossimità e dell'assistenza domiciliare. Rileviamo ancora la drammatica situazione in cui versano gli ospedali CTO e Sirai. Sui temi al centro dell'iniziativa delle organizzazioni sindacali, torneremo nelle edizioni del telegiornale di domani, giorno di vigilia della marcia. Ed ora voltiamo pagina. Sono 42 i nuovi casi positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Sardegna, su 1.261 test eseguiti, di cui 1.010 molecolari e 251 antigenici, dunque con una percentuale del 3,33%. Due i decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 18, uno in meno rispetto a domenica, quelli in area medica sono 188, due in meno sempre rispetto al dato di domenica. Sono 3.371 i casi di isolamento domiciliare, 155 in meno rispetto a ieri. Si registrano appunto due decessi, un uomo di 77 anni ed una donna di 94, entrambi residenti nella provincia del sud Sardegna. Cambiamo ancora argomento, nuovo intervento a Iglesias per il programma dei lavori pubblici in via Angioi. Tutti i dettagli in questo servizio. Hanno preso il via a Iglesias i lavori di riqualificazione nella via Angioi, che si aggiungono agli interventi realizzati nei mesi scorsi per il centro storico in via Ansicola, in via della Decima e in piazza Municipio. I lavori della durata prevista di 180 giorni e finanziati interamente dal comune di Iglesias per un importo complessivo di 236.947,40 euro riguarderanno nel dettaglio lo smantellamento della precedente pavimentazione, il rifacimento del sottofondo stradale e della rete dei sottoservizi, la realizzazione di una nuova pavimentazione in lastre di granito. Proseguono gli interventi di riqualificazione del centro storico con i lavori in piazza Municipio e con l'inizio dei lavori di via Angioi, ha detto il sindaco Maurusai. Iglesias è un cantiere aperto per rispondere alle esigenze dei cittadini e rendere quindi la città più funzionale, per tutte le persone che la frequentano e per le attività economiche. Confidiamo che i lavori sulla pavimentazione procedano rapidamente, ha spiegato da parte sua l'assessore dei lavori pubblici Vito Di Daci. in quanto sono stati preceduti dagli interventi realizzati da Banoa per il rifacimento delle reti idriche. A breve potremo iniziare gli ulteriori interventi in altre strade del centro storico, secondo il programma dei lavori pubblici. Albergo nautico diffuso arriva dalla Sardegna, la prima legge in Italia. Vediamo insieme. La Sardegna è la prima regione italiana a regolare con una legge l'albergo nautico diffuso, una forma di ricettività innovativa e al passo con le evoluzioni del mercato, che chiede sempre più di vivere vacanze esperienziali sostenibili a contatto con la natura. Sulla tematica, Confindustria Centro-Nor Sardegna ha promosso uno speciale talking streaming per fare il punto e quindi per definire meglio le soluzioni di intervento da mettere a sistema e sollecitare l'approvazione di una normativa ancora assente. Non c'erano schemi o modelli di riferimento, eppure il tema ha subito suscitato l'interesse di tutti i gruppi consigliari, ha spiegato Piero Maieli, consigliere regionale e primo firmatario della proposta di legge. In base alle norme approvate lo scorso giugno, quindi, l'attività turistica deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da riporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. Si tratta di un nuovo modo di concepire l'accoglienza. L'albergo nautico diffuso è sicuramente per noi un'importante conquista e un ottimo successo, ha detto il vicepresidente di Confindustria Centro-Nor Sardegna Giovanni Conoci. È necessario chiarire bene che le attività venivano già svolte da alcune imprese, soprattutto nell'area della Sardegna Nord-Orientale, ma mancando il riconoscimento giuridico non le si riusciva ad inquadrare né a valorizzare adeguatamente, facendo sempre confusione con altre tipologie di attività. Andiamo avanti, è pronto il calendario di ottobre della rassegna autunno in Barbagia 2021. Dopo le prime due tappe del circuito Oliene e Dorgali, concluse con un bilancio ampiamente positivo, l'ASPEN, la Camera di Comercio di Nuoro e i comuni coinvolti organizzano i prossimi eventi per il mese di ottobre di autunno in Barbagia. Siamo soddisfatti delle prime due tappe del circuito vissute ad Oliene e Dorgali, ha detto Agostino Cicalò, presidente della Camera di Comercio di Nuoro. I due comuni hanno scelto modalità diverse di gestione dell'evento, entrambe molto valide, e gli operatori economici e il pubblico hanno dimostrato chiaramente il loro apprezzamento. Sappiamo che organizzare la manifestazione rispettando pienamente la normativa anti-covid-19 è complicato e per questo forniamo tutto il sostegno possibile ai comuni che scelgono di aderire anche quest'anno. La richiesta di partecipazione è evidente, ci fa ben sperare. Per i prossimi mesi ha aggiunto Roberto Cadeddu, presidente ASPEN. Il pubblico si sta abituando alle limitazioni come il rispetto del distanziamento, il numero limitato di accessi, l'utilizzo della mascherina e tutte le modalità già previste dalle norme vigenti, nonché alla richiesta del Green Pass. I visitatori hanno voglia di venire in barbagia, di esplorare le botteghe, di gustare i piatti tipici ed ascoltare musiche e canti tradizionali e sono serenamente disposti a farlo seguendo le regole che ben conosciamo per la sicurezza di tutti. Il grande lavoro di organizzazione svolto dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco è stato premiato dalla soddisfazione dei visitatori, ha detto Laura Sagheddu, assessora del bilancio e delle attività produttive del comune di Dorgali. Il format dell'evento si conferma atteso ed apprezzato. Alcune migliaia di visitatori isolani e stranieri hanno esplorato il percorso, oltre 20.000 metri quadri di area pubblica, oltre 40 le cortes e le botteghe nelle quali i visitatori hanno potuto apprezzare le dimostrazioni di lavorazione offerte dagli artigiani e le degustazioni delle eccellenze delle aziende enogastronomiche, tutti a rappresentare la maestria e il saper fare d'orgalese. Ringraziamo la Camera di Commercio e l'Aspen che quest'anno, ha concluso Laura Sagheddu, oltre alla promozione dell'evento ci hanno supportato anche nella parte organizzativa, garantendo la presenza delle guardie giurate ai varchi di controllo del Green Pass. Apriamo con la cronaca la seconda parte del nostro telegiornale, nuova operazione antidroga dei carabinieri di Carbonia, con una perquisizione domiciliare nei confronti di una 37enne e di un 54enne, attualmente conviventi e entrambi disoccupati e con precedenti denunce a carico. A casa loro i militari operanti hanno rinvenuto ben sei bilancini elettronici, dei quali due funzionanti, tutti sporchi di tracce di una polverina bianca molto sospetta che verrà analizzata. Un trapano a colonna venduto soltanto presso i discount Lidl, una specchiera in marmo in stile bizantino, 29 pastiche di Rivutril, 18 pastiche di Xanax, due bustine di cellophane con tracce di sostanza stupefacente, e la somma complessiva di euro, 1.620 in banconote di vario taglio, ritenuta a provento dell'attività illecita. Una doppietta ad avancarica a cani esterni risalente alla fine dell'Ottocento. I due sono stati denunciati infine per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ricetazione e detenzione illegale di un'arma in concorso. Al supermercato Lidl di Carbonia il trapano elettrico risultava essere ancora in carico e non si erano mai accorti che fosse stato rubato. Si ricerca ora il proprietario dell'arma antica da collezione. La squadra Vigili del Fuoco di Tortolie è intervenuta per soccorrere due escursionisti belgi in località Teletotes a Urzulei. Un uomo, un medico di 70 anni, mentre percorreva un sentiero impervio con la moglie, è caduto procurandosi una vistosa ferita alla testa. Nonostante ciò è riuscito a dare l'allarme al 118 ai Vigili del Fuoco. Gli operatori sono riusciti a raggiungere la coppia degli escursionisti fornendo la prima assistenza all'uomo in attesa del servizio di elisoccorso. Il ferito è stato poi trasportato all'ospedale di Nuoro per ulteriori accertamenti, mentre la donna è stata accompagnata fino all'auto parcheggiata vicino alla strada statale. Sempre per la cronaca, intorno alle 22 di ieri è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco di Oristano sulla strada provinciale 9, che collega sia maggiore a sola russa, per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, un'auto si è ribaltata più volte. Gli operatori hanno estratto il conducente dalle lamiere e poi affidato alle cure del personale del 118, che con l'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale di Cagliari. Nell'ambito del progetto di risparmio energetico LED, Poste Italiane ha programmato interventi in nove uffici postali del Sulcis Iglesiente. Vediamo insieme il servizio. Nell'ambito del progetto LED di Poste Italiane, nei prossimi giorni gli uffici postali di Bakuabis, Bugerru, Carbonia 1, Via d'Almazia, Masainas, Musei, Narcao, Nugis, Sant'Anna Resi e Villa Massargia saranno interessati da lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al rinnovo dell'impianto di illuminazione attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci LED a basso impatto energetico in grado di consentire l'abbattimento di circa il 50% dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti. In particolare, le sedi di Carbonia 1, Via d'Almazia, Narcao e Sant'Anna Resi saranno oggetto di interventi nelle giornate di oggi, martedì 21 settembre, gli uffici postali di Musei e Bugerru dalla giornata odierna a domani, mercoledì 22, le sedi di Bakuabis e Villa Massargia rispettivamente dal 22 al 24 e dal 22 al 25 settembre, l'ufficio postale di Nugis dal 27 settembre al 2 ottobre. I lavori previsti presso le sedi del Sulciglesiente rientrano nel più ampio progetto LED che rappresenta da alcuni anni per la Sardegna Meridionale uno degli interventi principali per contenere i costi energetici e che ha coinvolto nella prima parte dell'anno 25 tra uffici postali, sedi direzionali e centri di recapito. Gli interventi effettuati nel primo semestre nelle sedi aziendali del sud dell'isola ogni anno produrranno un risparmio di circa oltre 240 mila kilowattora ed una riduzione delle emissioni di anidride carbonica di 208 tonnellate. Fino al termine per tutta la durata degli interventi, i cittadini di Bakuabis, Bugerru, Carbonia 1, Via d'Almazia, Masainas, Musei, Narcao, Nugis, Sant'Anna Resi e Villa Massargia potranno rivolgersi rispettivamente alle sedi di Gonesa, Flumini Maggiore, Carbonia Centro, Sant'Anna Resi, Domus Novas, San Giovanni Suergio, Narcao, Sant'Adi e Gleisas Centro a Serra Perdosa dove saranno predisposti sportelli dedicati ai clienti degli uffici interessati dai lavori per lo svolgimento delle operazioni finanziarie. L'azienda ha provveduto a informare preventivamente la clientela attraverso la fissione di appositi cartelli all'esterno di ciascuna sede. Andiamo avanti. Fare squadra accordo tra Comune di Cagliari e Università di Cagliari per nuove iniziative. Vediamo il servizio. Creare attività nei settori della progettazione strategica, della mobilità sostenibile, della prevenzione e gestione del cybercrime, del green public procurement e dell'economia circolare e della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico attraverso l'istituzione di una rete museale condivisa. E' questo l'obiettivo dell'accordo firmato tra il rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola, ed il sindaco del capoluogo sardo, Paolo Truzzo. Questo è il momento di fare squadra con tutti quelli che amano ripartire, ha sottolineato Francesco Mola. Sentiamo molto il dovere di lavorare per il territorio. In questo senso Cagliari, città universitaria, intendendo in questo concetto anche la più ampia città metropolitana e l'impegno di ogni giorno. Tutti noi in Ateneo abbiamo voglia di impegnarci e c'è la massima disponibilità a lavorare insieme. Le finalità sono anche quelle di migliorare la qualità della vita della cittadinanza, anche per favorirne la partecipazione sia sulla gestione della cosa pubblica, sia nei processi decisionali, di produrre innovazione sociale anche attraverso le nuove tecnologie e di sviluppare processi di condivisione sui temi dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, della valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale, dello sviluppo economico sostenibile. Considero fondamentale, ha detto da parte sua Paolo Truzzo, la firma di questo accordo, che stabilisce rapporti proficui e duraturi tra Cagliari e l'Università. Voglio che l'Ateneo sia coinvolto su tutte le scelte strategiche con un contributo originale e ricco di spessore scientifico. Consideriamo il rapporto con l'Università fondamentale per la crescita della città. Firmiamo un accordo che ha valenza strategica per i prossimi anni. EGAS via libera al progetto esecutivo di ammodernamento del depuratore consortile di Gergei e di riattivazione della stazione di sollevamento di Serri. Il servizio. Nei giorni scorsi l'ente di governo dell'ambito della Sardegna ha approvato il progetto esecutivo di ammodernamento del depuratore consortile di Gergei e di riattivazione della stazione di sollevamento di Serri presentato da Banoa. Gli interventi, che avranno un costo di circa 458 mila euro, dovrebbero iniziare nei prossimi mesi e permetteranno ai territori di Gergei, Serri ed Escolca di contare su un più efficiente sistema di depurazione delle acque reflue. Nel depuratore di Gergei gli interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria delle parecchiature e dei manufatti esistenti che ora versano in condizioni di deterioramento. In programma anche la demolizione del pozzetto di bypass esistente e la realizzazione di uno sfioratore a valle, dei trattamenti preliminari, la dismissione della vasca di clorazione esistente e la realizzazione di una nuova, il rifacimento dell'impianto elettrico e l'installazione di un sistema di telecomando e telecontrollo. A Serri sarà riattivata la stazione di sollevamento per il rilancio dei reflui provenienti dal territorio verso il depuratore di Gergei, consentendo la dismissione dell'ormai vecchio depuratore a servizio della borgata. È prevista la manutenzione straordinaria delle parecchiature, del quadro elettrico esistente e l'installazione di un sistema di telecontrollo. Con questi interventi saranno superate le attuali criticità dovute alla presenza dell'impianto di depurazione di Serri, ormai non più in grado di rispondere alle esigenze del territorio, ha spiegato il presidente di EGAS, Fabio Albieri. A lavori ultimati si avrà un unico depuratore, moderno, funzionale e in linea con le esigenze di rispetto per l'ambiente. Bentornati in studio. Seconda giornata a Villa Cidro della settimana culturale che accompagna il 36esimo premio Giuseppe Dessi verso il suo clou quando sabato prossimo, 25 settembre, verranno proclamati e premiati i vincitori del concorso letterario promosso dalla Fondazione Dessi di Villa Cidro. Oggi sono due gli appuntamenti in agenda, tra le riflessioni proposte in un incontro con padre Antonio Spadaro e lo spettacolo dell'attore Tullio Solenghi con i Nidi Ensemble. Dio è morto e neanch'io mi sento tanto bene. Si chiude domani invece a Quartuccio la mostra itinerante Cin Cin Cannonau organizzata dall'Associazione Botteghe in Piazza finanziata dalla Fondazione di Sardegna e dai comuni che la ospitano con il patrocinio della Fondazione Italiana Sommelier. Alle 18.30 è prevista la serata inaugurale che sarà l'insegna del Jets & Wine, mentre dalle 19.30 spazio alla duo connessione a fine con Matteo Costa al contrabbasso e Mauro Pani alla chitarra. Il 23 e il 27 settembre sarà la volta delle degustazioni guidate e curate dal sommelier professionista Fabrizio Livretti. Il 24 e il 28 settembre invece si terranno i saluti. Le serate del 25 e del 29 saranno dedicate alle ricette sarde, il 26 alle chiacchiere da vino, il 30 all'asta dell'oste ubriaco. Chiuderà l'evento ancora Jets & Wine. Dopo gli esordi con tre serate musicali sotto la Torre Sabauda e la giornata intitolata Posey Day, il progetto Calasetta accessibile e sostenibile riprende domani, mercoledì 22 settembre, giorno della festa patronale di San Maurizio, con l'iniziativa Puliamo il mondo dai pregiudizi, curata da Lega Ambiente Cagliari, che rientra nell'ambito della manifestazione nazionale di Lega Ambiente Puliamo il mondo, giunta alla 29esima edizione. Il punto d'incontro è fissato alle 9.30 in Piazza Belli, da dove, come segnale forte di civismo, partiranno le attività di pulizia degli spazi urbani, dei parchi e delle spiagge. Il belga Frédéric Glorie, con 41 anni, si è imposto nella seconda tappa del Giro Sardegna 2021. Sul tracciato veloce di 15,4 km allestito nella strada provinciale 69, quasi interamente in pianura e chiuso al traffico per l'occasione, l'atleta della Team Koratek ha avuto la meglio sui 170 partenti. Frédéric Glorieux ha saputo andare forte, soprattutto nella seconda parte del tracciato, quando la sua bicicletta ha toccato una media di 50 km all'ora. Il ritmo imposto dal belga ha permesso di chiudere la competizione in vantaggio rispetto all'italiano Damiano Lenzi, al tedesco Daniel De Bertin, e di conquistare il secondo posto nella classifica generale. Tra i sardi buona la prova di Filippo Capone, triatron Team Sassari, sesto e di Andrea Costanzo, IO Cicling Team Settimo. E con il ciclismo e dunque lo sport, si chiude qui il nostro telegiornale odierno, vi lascio ora in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani. Grazie per l'attenzione e per averci seguito, io vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40 e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie per l'attenzione e per averci seguito,